Buongiorno a tutti e benvenuti a mio canale. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Non mi chiamare più. Non mi chiamare più. Dai, dai. Vi vediamo ancora la prossima volta. Questa è un po' di schiacciare. E in un po' di schiacciare. Quindi proviamo oggi questa pizza Boston. Dunque ragazzi, Adidas Adventure Top Loader. Adidas Travia Cold Revy. Ragazzi, sono un po' emozionato. Sono venti anni che aspetto di fare questo video. Mi raccomando, posto da visitare l'Adidas Store. Un must. È scritto a momento in questa man shop. Non mi chiamare? Non mi chiamare. Ah, ok. Buongiorno ragazzo. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi è la recensione della pizza. Oh, allora. Ah, vai. Oh, allora. Ah, vai. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Andiamo ora a vedere il video. Noi ragazzi, pizza London è la migliore di tutte secondo Chan. Secondo me potrebbe anche essere, nel senso che è un classico intramontabile. Ciao. Alla prossima. 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 Alla prossima.